Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, mentre era a mensa con i suoi discepoli, Gesù fu profondamente turbato e dichiarò, in verità, in verità io vi dico, uno di voi mi tradirà. I discepoli si guardavano l'un l'altro, non sapendo bene di chi parlasse. Ora, uno dei discepoli, quello che Gesù amava, si trovava a tavola al fianco di Gesù. Simon Pietro gli fece cenno di informarsi chi fosse quello di cui parlava. Ed egli, chinandosi sul petto di Gesù, gli disse, Signore, chi è? Rispose Gesù, è colui per il quale intingerò il boccone e glielo darò. Intinto il boccone, lo prese e lo diede a Giuda, figlio di Simone Iscariote. Allora, dopo il boccone, Satana entrò in lui. Gli disse dunque Gesù, quello che vuoi fare, fallo presto. Nessuno dei commensali capiva perché gli avesse detto questo. Alcuni infatti pensavano che, poiché Giuda teneva la cassa, Gesù gli avesse detto, compra quello che ci occorre per la festa, oppure che dovesse dare qualche cosa ai poveri. Egli, preso il boccone, subito uscì. Ed era notte. Quando fu uscito, Gesù disse, ora il figlio dell'uomo è stato glorificato e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi. Voi mi cercherete, ma come ho detto ai Giudei, ora lo dico anche a voi. Dove vado io? Voi non potete venire. Simon Pietro gli disse, signore dove vai? Gli rispose Gesù, dove io vado? Tu per ora non puoi seguirmi. Mi seguirai più tardi. Pietro disse, signore perché non posso seguirti ora? Darò la mia vita per te. Rispose Gesù, darai la tua vita per me? In verità, in verità io ti dico, non canterai il gallo prima che tu non m'abbia rinnegato tre volte. La pecora smarrita più perfetta nel Vangelo di Giuda, un uomo che sempre, sempre aveva qualcosa di amarezza nel cuore, qualcosa da criticare degli altri, sempre in distacco, non sapeva la dolcezza della gratuità di vivere con tutti gli altri. E sempre, come non era satisfatta questa pecora, Giuda non era un uomo satisfatto, scappava. Scappava perché era ladro, andava per quella parte lui. Altri sono lusuriosi, altri sono... ma sempre scappano perché c'è quel buio nel cuore che le distacca dal grece. E quella doppia vita, quella doppia vita di tanti cristiani. Noi dobbiamo capire le pecore smarrite. Anche noi abbiamo sempre qualcosina piccolina o non tanto piccolina di pecore smarrite. Noi dobbiamo capire le pecore smarrite.